973 dollari all'anno, poco più di 700 euro. Questa è la super tassa che il nuovo sindaco di New York, Bill de Blasio, chiederà se avrà l'approvazione naturalmente dell'Assemblea dello Stato di New York ai super ricchi di pagare per finanziare gli asili, le scuole materne e le loro mense. La reazione è stata prevedibilmente furiosa. Nessuno ama le tasse, certamente nessuno ama le tasse alla Befana, regali dell'anno nuovo e i repubblicani hanno gridato allo stalinismo, al famoso mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini, frase che in Italia conosciamo bene. Ma quello che colpisce non è questo che è il normale gioco delle parti, quello che colpisce è vedere che a New York ci sono 26.000 contribuenti che dichiarano oltre mezzo milione di dollari all'anno in reddito. Allora ecco, ricordiamoci di questa cifra, perché quando anche da noi in Italia si parla giustamente di far pagare un poco di più chi ha molto in favore di chi non ha niente o chi ha molto poco, dimentichiamo sempre un piccolo elemento, che per tassare di più i ricchi bisogna trovarli, bisogna che ci siano, bisogna che si dichiarino, perché se non ci sono ricchi, ufficialmente per il fisco, non si può tassarli. Quindi di nuovo l'infedeltà, la menzogna fiscale dei ricchi è quella che di più penalizza chi non ha niente.